Ecco Mattia, se vuoi salutare i lettori e illustrare questa visita? Siamo qua con degli amici che ci sono venuti a trovare, sono degli studenti di Senato Cabella e delle tante altre cose e illustriamo un po' la redazione dell'Infiosto Fresco. Bene, sono ragazzi che stanno studiando al Foral, no? No, studiamo al CPA. Al CPA, benissimo. Forse di italiano. E il nostro direttore Federico Cabella è uno dei loro insegnanti. Buongiorno. Abbiamo diverse nazionalità, vogliamo dire le nazionalità? Ecco. Nazionalità di dove sei? Di? Venezuela. Di dove sei? Repubblica con Icana. Di dove sei? Mali. Senegal. Senegal. Mali. 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 Ghana. Poi? Guinea con Acri. Guinea. Guinea. Mali. 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 Bene. Siamo molto orgogliosi della vostra visita, ci fa veramente piacere. Grazie. E speriamo che l'italiano ve lo stanno insegnando bene. Sì. Sennò tiriamo le orecchie al nostro direttore. No, è difficile. Alla prossima. Sempre poco. Capito. 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 Musulmani. E abbiamo proprio anche l'intestazione in arabo proprio noi. Se voi volete fare un bel inserto, anche in lingua, noi siamo francesi come in inglese, noi ve lo stampiamo ben volentieri. Potremmo fare un inserto. Anche in spagnolo. Anche in spagnolo. La tinta fresca in spagnolo. Abbiamo già fatto un pezzo. Vieni, vieni dentro. Vieni. Ah. Allora, con me Federico, numero uno, un applauso per Federico. Eh, bene. Allora ci contiamo, aspettiamo un inserto e il nostro persona di collegamento sarà proprio Federico Cabello. Grazie per la visita. E complimenti a voi e ai vostri insegnanti. Va bene, grazie. Bene. Allora.